Un cordiale saluto, rieccoci qui all'appuntamento col meteo per questo sabato ultimo giorno dell'anno del 2022 che si prospetta ancora una volta molto stabile su tante nostre regioni per effetto dell'inverenza dell'anticiclone sub tropicale. Solo il nord si trova un po' ai margini di questo anticiclone e quindi subisce l'influenza di aria più umida e instabile di origine atlantica. Pertanto questo sabato 31 dicembre stabile su tutto il medio basso adriatico anche al sud delle isole maggiori non mancheranno le solite nubi basse soprattutto sul versante tirrenico tra la Calabria, la Campania, il Lazio, la Toscana. Qui in Toscana, Alta Toscana in particolare avremo delle precipitazioni che si estenderanno anche a Liguria centrale molto più raramente sul nord-est le temperature massime comprese generalmente tra gli 11 e i 19 gradi, le minime tra i 5 e i 13 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento.